Ciao amici, oggi andiamo a recensire questo kit per pesca un kit completo di accessori di ogni genere, di esche, di ganci a manovella, di piombini tutto quello che può servire per poter pescare e la cosa veramente che mi ha portato poi ad acquistare questo prodotto il prezzo è veramente basso, 12 euro, cioè 12 euro che ci compri e qui ci sono 272 pezzi che possono essere utilizzati quindi piombini, moschettoni, di ogni genere poi il fatto bello, i cordoni che possiamo utilizzare sulla nostra pesca eccola qua, belli anche questi inserti devo andare a posizionare poi tutti quanti i nostri oggetti guardate, i vari ami di diverse dimensioni sono abbastanza grandi che potremmo utilizzare anche a mare veramente una cosa divertente ripeto, la cosa che mi ha colpito è il prezzo, 12 euro ecco, 12 euro che ci compri tutto bello richiuso che poi vai ad agganciare vediamo un po' eccolo qua e te lo porti appresso un bel prodotto un bel prodotto ora andremo a testare chiaramente i componenti di questo kit per vedere se sono realmente poi di buona qualità che non è che poi andiamo a pescare nel fiume, al lago, al mare e ci fanno pentire di averli acquistati quindi ora li andremo a testare e poi daremo una valutazione come facciamo sempre da una 5 stelle in relazione appunto alla qualità di questo prodotto vi ringraziamo veramente per l'attenzione dimostrata e ci vediamo presto